Ciao a tutti amici, bentornati in Pepper Please! Cosa dici ma tre? Che va al solito? Io? Mamma Russo? Com'è? Ma tre? Ma tre? Non faccio l'epilogo, sai perché? Perché hai fatto schifo tutte? No, ho fatto cacare tutte! Tra me l'ultima puntata è quasi buona! Ma l'altra puntata ho fatto cacare! Cacare striscio cacata strisciosa della cacca curta! Ho fatto cacare madre russia! Gloria Artosca, ci vediamo in game! Giusto! Bravo Matreius! eccoci in game ritorna la polio nelle foto Soltanto un caso isolato, cammina 내가 3 sanemo arrivati alla 25esima Mila puntata decimo puntaccia c'è un nuovo rosso rispettore questo impiego è della massima importanza e comporta quelli di responsabilità tenessi strettamente a tutte le procedure certo una cippa vai aspetta se non tiri sulla Claire ecco questo qua è Giobbe Covatta quella dell'altra volta è Giobbe guarda che è il secondo è lui è lui senza barbari è lui secondo me è lui ma tre io senza lì a guardare vabbè andiamo a vedere Joe Arnoston FV2G Unity 3G perfetto immigrazione per sempre va bene sesso maschile mica tanto descrizione barba ma va ho detto cosa sembra che c'è gli occhiali e perché qualcosa sembra uguale ma perché controlli? controllare non fa male è scaduto è scaduto è scaduto è scaduto è scaduto è scaduto Matreus è scaduto incongruenza dai questo documento è scaduto potevo venire solo ora via ricordati il motivo timbratuto vai via fuori dalle balle strano che non l'ha arrestato Matreus si si gli dai una cosa entro il prossimo anno forse 15-12 oh ah vai forza prossimo via 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 il documento ti prego l'incappucciato ancora leggi leggi rapidamente calodo liquidato altro killer in arrivo uomo in rosso informazione su tutti gli azici di Tartosca non corre rischio devi ucciderlo oggi forniremo l'occasione se riesci verrai se riesci verrai catturato immolati per Tartosca la famiglia sarà sicuro cioè se gli spariamo ci arrestano praticamente via via attacchi alla alla ceppa dorata spara a vista cosa c'è 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 c'era uno giallo e uno grigio mi ha dato non gli sparo perciò magari ci serviva vabbè penso sia il marone guarda la foto con gli occhi no bambino cappelli a spazio ma i cappelli a spazio l'amica tanto savelli spirod off repubblica va bene 15 284 27 12 182 ch vero 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 virvis con te che rimane qua due settimane un paio di settimane direi che questo a posto salvo che sia giusto il no già guardato quella a posto no io guarderei se è giusto il simbolo mi pare di sì però come al solito quei cavolo di simboli non ci capisco mai una cip c no non è giusto vedi ci avevo ragione ma tre hai taroccato e noi ti arrestiamo faccia da culetto variato cosa fai e cosa fai io secondo te cioè ma almeno fai il timbro bene no tanto hai già taroccato mi raccomando sempre non ci mi sul ma non ma ri voila im m g m g m g 174 cm 82 kg di peso ci siamo dire che ci sia ok distretto far d'esto far d'esto c'è tutto posto contro la stessa o in italia perché c'è scritto distretto far d'esto si è contavate non è che ben tutto il giorno e anche questo torsio gli altei sbagliato il nome ma giusto gli aspettori al contrario 584 lavora tre mesi non mi ricordo cosa ha detto tutto ci parli pochi mesi al tetto quello non è scaduto quello è giusto quello il codice giusto quello è giusto non so il permesso lì non so il simbolo lì più che altro campo sport ma questo è l'allenatore di la letter della squadra secondo me ai vero si però ma tre si può essere un lare simbolo è che deve essere qua per 1 2 2 simboli controllare rapido e indolore e in tempo soprattutto secondo me l'omino rosso adesso ci rompe le palle dico adesso vedi che ci minaccia con la pistola e cosa gli spariamo giusto moriamo vale con calma e non t'agitare con calma e tanto dobbiamo 5 dollari merite di fondo 800 fogli un po auto giusto per un uomo un uomo un uomo ok via il prossimo un uomo un uomo un uomo un uomo il fratello di vidale dai maicondro un uomo maicondro 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 lui lui Sì, tutti controlla anche la signora che passa per strada Mi ti sento di 33, 84, cresta 74, 174 La cresta arriva a 3 metri, però vabbè Il simbolo lì è tarocco, secondo me è tarocco Te l'ho detto che era giusto E stai lì che lo controlliamo Ho detto che è giusto Maschio, maschio Quello non è scaduto Great Rapid, sì, esiste Great Rapid, raccontrò tutte le volte Ma tra i E questo? Ah, c'è lì Non l'ho visto Lavoro un all'intero Non ho parole, vai Sei 12 Eh, certo, è giusto Accetta Che perdiamo tempo Guarda Il cos'è sbagliato Il simbolo è sbagliato E io Guarda No T'ho detto che era giusto Questo è sembra il fratello di quello che taroccava i documenti Tu, Rosso of Artur E va bene Re Artur 82 kg 186, sì Anche 190 con il ciuppetto lì C'è, c'è, esiste quella E questo distretto Distretto C'è, c'è, c'è C'è Rimango pochi mesi c'è buon se c'è dove dice che c'è stato un sacco di soldi questo sono i gradi con l'inverno e lì sono i i dollari capacità non il muro leggera crescono i tuppi sulla tenuta del confine cocco 16 dicembre 19.22 cocuzari è scomporso il corso ebbè te credo abbiamo ammazzato questo qua adesso arriverà il nostro amico non fiumco la stellina ping ea roppare le palle rispettare diversi cittadini d'artosca del distratto di altan sono sospettati per alcuni per alcuni avveni eventi recenti ministero dell'informazione ha richiesto la nostra collaborazione la guardia l'avrà dato di uno speciale cassetto per la confisca dei documenti il regolamento è stato aggiornato con informazioni relative alla confisca confiscare tutti i passaporti d'artosca dei residenti del distratto di altan una volta eseguita la confisca i residenti in regola potranno entrare normalmente verranno ammessi talloncini confi... non ci ho capito una ceppa cosa dobbiamo fare perché bisogna confiscare i passaporti per farli entrare si altan verifica residenza di altan lasciare il passaporto nel cassetto confisca e poi lo facciamo entrare si questo qua il nostro amico si è vero adesso è il nostro amico guarda l'ultimo che è brutta quella morte mannaggia ho detto un giugno cosco c'è il massimo alta via questo ma guardiamola almeno ma devi controllarlo tollo e controllo magari era scaduto fa che c'è sempre la taroccata dietro lago vabbè sembra giusto fai anche la finta ragazzi è bello tornare a casa vado in viaggio presto mi sarò passaporto è confiscato cosa vuoi dire che cosa fai non puoi fare questo scuota amico ti abbiamo detto vattene via è rotto le palle libertà di movimentare questo che c'è prezzi oh 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 non va via e ho un bagno guarda se porta in bravo guarda questo qua zim vabbè vai calma va c'è atticatura i capelli e parte la guaggia petrovo trostavaglia trostravaglia 4 4 9 g 13 2 giorni non mi ricordo quanto sta calvo 182 73 kg c'ha 3 kg in più controllo subito il peso via vai 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 becchiamo tutti li becco in concluenza vai becchiamo tutti sei sempre in posizione casuale casuale sempre casuale 3 kg c'avrà secondo me no gli ho messo il motivo speriamo di poterlo arrestare che almeno no esatto c'è il coltello infincato dietro ma si enorme armi e contrabbando arresta 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 cosa fai adesso dice cosa fai hai visto cosa fai secondo te cosa facciamo c'è il coltello piantato nel vero età secondo te il coltello di amore una mazzata abbiamo messo il motivo alle epipi calze lunghe qua se questa è la più carina che abbiamo visto il gioco sto se luise femmine 50 tra un 84 se ti lascio conf ma di altan no no e allora che cacchio ok mappa arstotzka paradis burton c'è si ok 155 cm ci siamo ma 155 cm ma mica tanto ci siamo si ma si guardala ma cosa 155 è qua si vabbè vai intanto c'è non è che deve essere infatti visto ho detto che era giusto ma incongruente ho detto che che è incongruente secondo me c'è sui soli tacchi eh tu ti erano presso ma le snotro e lei e lei sono uguali e lei timbra dai timbra fa lentaccia sui tacchi dai ma Treus l'avevo detto ma dai ma Treus comunque non hai preso neanche un ammonimento per ora eccolo qua e pinca te cos'è che vuole sto minchia leggera e rapidamente abbiamo perso l'occasione uomo in rosso vivo ora per persaglio gli agenti e zici in colecchia dobbiamo rivedere i piani ma questo ho capito che non ce ne fotte una minchia di quello che vuole lui cioè amico cioè attacca il cervello collega le orecchie non ce ne fotte una minchia cioè ok vengo a vivere con mio marito ma che è una donna questa qua si pio fergovasca 59 kg 162 cm si per sempre vengo a vivere qui m per scommette che dietro c'è suo marito il simbolo la io lo controllerei il resto mi pare tutto giusto non è scaduto è scaduto no non è vero non è vero è scaduto non è vero è lei no non è lei va bene secondo me è sbagliato è giusto ti ho detto che è giusto ah e allora i controlli tu hai detto che si stai lì a guardare è la stessa vabbè è la stessa ok scalcia scalcia scalla aver contratto a 26 tutto così mentre andava ancora va bene secondo me adesso arriva suo marito non è suo marito tra poco non è suo altan va bene glengh glenghi 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 beh anche questa allora l'altezza è sbagliata cioè non è che si può dire che sia giusta vabbè però quando è calva si calva cioè siamo senza capelli calva vabbè questa diar tosca non è di ah perché era di non l'avevo visto per me si si ah si giusto altan 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 tu devi andare al tan e io ti confisco il clan è come io viaggio contatta il numero su tononcino ah questa contatta e contatta sto numero se te l'abbiamo detto ce li abbiamo tutti qua che se ne fregne oh questa qua è quella con il tornado in testa si esatto però i capelli sono diversi oh si ma a parte quello ma c'è un'autorizzazione diplomatica eh non so sandra caralese io controllare i capelli ma te ho detto che è la stessa cosa perché l'hai controllato corrista city c'è questo non me lo ricordo sì c'è te l'ho detto che c'era ma non ha quattro c'è 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 tempurato ma c'è la prossima stanno timbrando vediamo gli stessi ogni tanto passare ma non c'è più il tavolo è lui è lui è lui oggi vengo per visita breve tutto è molto buona per me io non sono in nessun bollettino criminale no ma che cavolo vai ascolta il taroccato tu tua viso il bollettino cosa? Io pago polizia perfumata Dicono che niente è bollettino È tutto a posto Non devo fidarsi di un'emozione in che euro Scusa George Ah ok ora molta polizia conosceva Ora faccio gli sconsetto color di nuovo Comunque tu hai lavoro duro Meglio vendere droga Questo mi ha capito Commercente droga però è tagliato come pochi Guarda questo qua Così Guarda mattelo sono uguale Sì più o meno Aaron Hopcroft Ma i codici sono quasi sempre giusti C'è un po' che vuole Non va Ok beh Tu hai detto i codici sono sempre quasi pochi giusti Fatela sbagliare Qui c'è un'incongrenza controllo di nuovo Sì guarda come ti controllo Che cosa fai? Eh faccio le unghie Cosa fai amico? Oh Ha portato falsità in noi Quasi è scaduto il tempo E' questa qua Ha fatto un'altra E' finchete E' finchete Repubblica Petriska Petroska Lavoro sei mesi 4 1 83 Ci siamo Resta metà anno E' partita la nave Ma 3 Se l'ho sentita 1 173 Petriska Aia Chi è? E' scaduto Scaduto Signora Questa è il primo che troviamo scaduto Deve essere errore di stampa Va bene Non l'hai Non l'hai riuscata Eh no Non c'era Pure il mio Deve essere un errore di stampa Per rifiuto C'è Affari della madre La bicchia E' caduta per te Alla Si penso Si Tuo figlio Bisogna di medicina Appartamento disponibile Affetto 40 Riscaldamento 5 Direi Via riscaldamento Sia le medicine Sia passa la classe 6 Noi siamo in Classe 7 Perciò Sì Devo Buenos Una vera epidemia Minaccia Però amici Per questa puntata E' tutto Vi voglio ricordare Come sapete Iscrivetevi al canale C'è Sergio Che ci vuole parlare E ovviamente Commentare Amici E ovviamente Commentare Mi raccomando Condividete il video Dove? Via Facebook Twitter Google WhatsApp Telegram Con le vostre amiche Con i vostri amiche Nei gruppi E' Pieri ping Pieri ping Pieri ping Pieri ping Ciappali Ciappala Ciappasù Ciappagiù Ciappagiù Pieri ping Pieri ping Pieri ping Pieri ping Grazie per la visione!